La città metropolitana che sta curando questo finanziamento e questa progettualità ha in fase prossima di definizione un appalto che dovrà essere effettuato con un avvio concreto dei lavori verosimilmente nel secondo semestre del prossimo anno ed è un tratto di strada che è in parte nuova e in parte riqualificazione di quella esistente. Intanto ci sarà un nuovo casello a nord del casello attuale di Bari Nord, una specie di Bari Nord Nord, in realtà sarà un Bari zona industriale, aeroporto, interporto e un casello che sarà servito in entrambe le direzioni di marcia diversamente dall'attuale casello di Bari Nord che è un casello zoppo perché chi entra a Bari Nord può soltanto andare in direzione Foggia non può andare in direzione Taranto e quindi verso Reggio Calabria. Quindi questo casello sarà un casello completo, si collegherà direttamente con via Ottavio de Blasio che è una strada importante esistente nell'area industriale, ci sarà lo scavalco di via Ottavio de Blasio con la tangenziale e una nuova area di svincolo, una nuova bretella che camminerà da dietro la Stanic con una nuova rotatoria in corrispondenza di via l'Europa e poi da questa rotatoria di via l'Europa si utilizzerà un vecchio percorso dismesso delle ferrovie per immettersi orientativamente nella zona di Marisabella accanto alla Guardia di Finanza con un'intersezione non a raso ma a livelli sfalsati con il lungomare. Grazie. 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 Grazie.